Riforma banche di credito cooperativo, Federcasse dice la sua, in riferimento a quanto dichiarato dal premier Matteo Renzi alla Leopolda. Il ritardo nell'emanazione del decreto non dipende dalla banca e Federcasse respinge la tesi che afferma che la numerosità e la dimensione delle banche costituisca di per sé un problema. Ogni BCC, parliamo delle banche di credito cooperativo, sono inserite in un contesto locale, come all'Aquila del resto dove è ben radicata e genera economie di scala. Nascerà con la riforma un gruppo bancario cooperativo e sarà il primo per capitali tutti italiani e il terzo per volumi complessivi. Federcasse ricorda che oggi un cliente BCC possiede obbligazioni ordinarie messe dalla stessa banca e garantite dal fondo di garanzia degli obbligazionisti e può contare su una garanzia che arriva a 103 mila euro aggiunta a quella di 100 mila riconosciuta per legge ai depositanti. Un numero significativo di consigli di amministrazione poi aggiunge non è un problema. Federcasse ribadisce che la crisi non fa associata alle quattro banche, il decreto salvabanche è una misura congiunturale e solo la coincidenza temporale è stata nefasta e dovuta a ritardi che non sono né di BCC e né di Federcasse. Le quattro banche portate a risoluzione ricorda Federcasse non erano né tutte piccole e né tutte di territorio e non erano banche di credito cooperativo. Le 368 BCC e casse rurali italiane con 4.450 sportelli hanno oggi una presenza diretta in 2.697 comuni compreso quello dell'Aquila e in 101 province. Con un milione e 230 mila soci e 37 mila dipendenti certificano una raccolta diretta di 161,5 miliardi di euro e 135,5 miliardi di impieghi. Gli impieghi delle BCC rappresentano il 22,6 per cento dei crediti alle imprese artigiane, l'8,6 per cento alle famiglie, il 17,8 per cento alle micro imprese familiari. Lo stock di impieghi negli ultimi anni è cresciuto di sette volte così come la quota di mercato media sugli impieghi si è raddoppiata. Grazie. 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 Grazie.